Debutto con vittoria per l'Avezzano nella prima giornata del campionato di eccellenza. I biancoverdi sbrigano la pratica Bagigalupo-Vastomarina nei primi 45 di gioco e lanciano un messaggio chiaro alle concorrenti. Rullo conferma 10 undicesimi della formazione vittoriosa sette giorni fa in Coppa contro il Capistrello, unico avvicendamento tra i pali con Ticchi al posto dello squalificato. Cattenari confermato il tridente offensivo con Spinola supportato da Braghini e Cancelli, chiavi del centrocampo in mano al duo ex agnonese Viscovic-Peic. Nella Bagigalupo il neorrivato Salerno guida l'attacco con Di Gennaro e Troilo in appoggio. Il primo squillo è biancoverde dopo 5 giri di lancetta con Spinola che arma il destro, palla che finisce in curva 3 minuti ed è ancora l'argentino a farsi vedere ma viene anticipato sul più bello da Marconato all'undicesimo tracce di Vastomarina con il tentativo di Marino che non impensierisce Ticchi. Al ventiduesimo l'episodio che cambia la storia del match, Spinola viene steso da Galia in aria per Marchetti dell'Aquila, nessun dubbio, calcio di rigore. Dal dischetto va il nove argentino che la mette centrale e fa 1-0. Sulle ali dell'entusiasmo continua a spingere l'Avezzano. Al ventinovesimo Cancelli tenta il tiro a giro ma trova Battilana in fuorigioco sulla traiettoria. Al trentasettesimo ci prova Peic da piazzato ma la barrera debia in corner. Dalla bandierina Spinola per Nella per la testa di Lombardo che insacca il pallone del 2-0. Col doppio vantaggio l'Avezzano gioca sul velluto e crea altre due chance. Prima con Cancelli, tiro alto dopo l'assist di Besana e poi con Braghini che spara a salve e favorisce l'intervento di Marconato. Nell'intervallo Rullo lascia negli spogliatoi Spinola e getta nella mischia a Roghi. Il primo tentativo è degli ospiti ma il colpo di testa di Salerno trova solo l'esterno della rete. All'undicesimo è il neo entrato Roghi a farsi vedere ma la sua punizione trova i pugni di Marconato girandola di cambi da ambo le parti nell'Avezzano dentro Dennis, Besana e Vincenzi per Cancelli e Battilana. Nel vasto marina Damizzi e Petrella prendono il posto di Marino e Longo. I biancoverdi congelano il possesso e controllano il risultato. L'unico brivido arriva al trentacinquesimo con il piazzato di Castro che scheggia il palo. Al quarantunesimo si fa vedere anche Vincenzi che carica il destro ma spedisce alto sopra lo specchio. Nel terzo dei cinque minuti di recupero, chance anche per Dennis Besana che servito dal neo entrato Selle non in quadra e Cestina il Tris finisce col primo successo in campionato dell'Avezzano. La rincorsa alla Serie D è ufficialmente partita. Mister, settimana scorsa dopo la partita con il Capistello lei ci ha detto che era soddisfatta a metà. Oggi? Oggi un pelino in più. Era importante vincere perché abbiamo visto anche altri risultati. ogni partita è dura, c'è il caldo, c'è l'emozione della prima gara, non era facile. Mi è piaciuto l'approccio alla gara della squadra, la cattività e l'agonistica. L'unico rammarico è chiudere la partita perché non si può lasciare una partita così sul 2-0 perché basta un episodio e si riapre. La squadra sta crescendo a livello fisico, a livello tattico e dobbiamo solo migliorare. A livello di gioco questa squadra ha recepito le indicazioni che lei ha cercato di dare per tutto il ritiro. Si è visto molto gioco a terra, centrocampo protagonista. È soddisfatto sotto questo punto di vista? Sì, stiamo crescendo. Ripeto, la squadra è da un mese che stiamo insieme. Squadra talmente nuova. Facciamo fatica ancora, sbaglio io, a chiamare i nomi dei giocatori perché siamo da un mese insieme quindi è normale che vanno rodati tanti meccanismi. Però la stata è quella giusta e i risultati fanno lavorare meglio. Hai il mercato soddisfatto? Sì, ho tanti giocatori importanti, gente fuori che sta recuperando e che ci può dare una mano. Loro sanno che c'è spazio per tutti, il campionato è lungo e c'è da pedalare. Abbiamo parlato domenica scorsa di Braghini, un'altra parola per gli under impiegati quest'oggi. Hanno fatto tutti bene, ripeto, Braghini è un ragazzo interessante ma deve crescere tanto. Oggi ha avuto delle palle per fare gol, era un po' lezioso, ci ho già parlato con il ragazzo. Se si vuole fare il giocatore bisogna essere cattivi sotto porta perché poi lasciamo una partita aperta così e se succede qualcosa poi dopo stiamo parecchi incazzati. Un'ultima domanda sul modulo oggi 4-3-3, questo è il modulo che ti dà più garanzie in questo momento? Sì, adesso sì, è quello che abbiamo provato in ritiro, abbiamo fatto anche il 3-5-2 la settimana scorsa, oggi ci siamo messi 4-3-2-1, chiamiamo l'esterno in meno, cerchiamo di occupare bene il campo per dare una pressione davanti. Mister, eravate chiamati ad un'impresa, l'impresa però non è arrivata purtroppo per voi? L'impresa fa parte dei sogni, si arriva sognando, poi la realtà è questa, lo sapevamo che era difficile, però la versione ha dimostrato di essere una grande squadra, molto convinta, dinamica, capace, organizzata, probabilmente sarà la squadra da battere in questo campionato, abbiamo cercato di stare in partita, siamo riusciti, abbiamo questo gol su palla ferma, abbiamo dei problemi, però è una squadra molto giovane, inesperta, onestamente di più non potevano chiedergli, torna a casa con la consapevolezza, con un gruppo di ragazzi che ha voglia di fare, di lavorare perché ovviamente di lavoro ce n'è tanto da fare. Sarà questo l'organico definitivo della Bagica Lupo o vi aspettate qualche altro innesto dal mercato? Ma guarda, noi stiamo valutando perché abbiamo cominciato tardi, dopo sette mesi di fermo ovviamente siamo partiti, abbiamo questa rosa con cui stiamo lavorando da un mese, molti fanno parte del nostro settore giovanile, il mercato è aperto fino al 30 ottobre, vedremo se ci sarà l'occasione, sicuramente la società non si tirerà indietro, io so qual è il mio obiettivo, quello di far crescere questi ragazzi e se ci riusciamo il nostro obiettivo primario è quello di rimanere in categoria. Per concludere, l'anno scorso siete stati soprattutto nella prima metà forse la rivelazione del campionato di eccellenza, quest'anno come ha ribadito lei l'obiettivo sarà quello di salvarsi? Anche l'altro anno era quello l'obiettivo, il problema per fortuna per me è che avevamo in rosa 4-5 giocatori che magari non conoscevano nessuno ma che erano bravi, tant'è che giocano in categoria superiore e quindi era giusto lasciargli andare, quindi anche l'altro anno era quello l'obiettivo e quest'anno l'obiettivo è questo e magari far esordire ancora i nostri ragazzi come è successo oggi.